Giovanni Andiloro, geologo coordinatore di una nuova associazione Calabria Ambiente. Sabato prossimo si terrà un convegno a Gioia Tauro sulla problematica del dissesto idrogeologico. Di cosa si tratta? Calabria Ambiente è una nuova associazione culturale senza scopi di lucro che ha intenzione di occuparsi di tutte le problematiche sotto il punto di vista ambientale. La prima tematica che abbiamo scelto è questa del rischio idrogeologico. Da tanto che se ne parla bisogna cercare di andare e colpire nel segno. Noi abbiamo dato un titolo importante a questo convegno che è la prevenzione messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in Calabria la grande opera da realizzare. L'abbiamo voluta chiamare così proprio perché è la grande opera da realizzare dove per compiersi avrà bisogno degli sforzi non solo politici ma anche degli sforzi di tutta la società calabrese. Questo è un problema che riguarda la Calabria sotto tutti i suoi aspetti sociali. Non si può parlare di agricoltura, non si può parlare di imprenditoria. Tante imprese e tanti agricoltori sono stati colpiti. Adesso bisogna capire che questo è il nodo perché tante cose sono state fatte. Tra l'altro ultimamente è stato nominato come dirigente della UA di protezione civile un geologo, il dottore Tanzi. Questo riesce a sbrogliare bene la protezione civile da alcune maglie burocratiche che si trovava prima. C'è stato anche un riaccorpamento di alcuni dipartimenti alla regione Calabria che consentono di dare una visione della problematica guardando verso monte e quindi nella complessità del bacino idrografico. Ora la sfida sta proprio arrivare a passare dalla fase di emergenza alla fase di prevenzione però per fare prevenzione occorre prevedere per fare delle previsioni occorre conoscere il territorio conoscere il territorio e controllarlo. Quindi ritengo che i prossimi passaggi dopo queste condizioni di emergenza che sono state superate anche bene e deve essere subito un tavolo che si occupi immediatamente di come bisogna passare alla fase di prevenzione cercando di capire quali sono tutti i soggetti da coinvolgere perché è un cambiamento che, ripeto, per potersi attuare necessita dell'intervento di più enti pubblici, di più forze sociali. Quindi sabato, questo convegno, quali saranno gli ospiti che tratteranno la tematica e le tematiche relative all'ambiente e al dissesto idrogeologico della nostra regione e del nostro territorio? Il convegno è strutturato così, ci sarà un intervento dei saluti istituzionali avremo come ospite il Vice Presidente del Consiglio regionale l'Onorevole D'Agostino, il Sindaco di Gioia Tauro Modera, il Presidente dell'Ordine regionale dei geologi, il Dottor Fragale e poi subito avremo il Dottore Tanzi come in qualità di dirigente della U.A. Protezione Civile che ci parlerà di come si affronta un evento calamitoso straordinario. Subito dopo avremo l'intervento dell'ingegnere Gallo che è il soggetto attuatore dell'ufficio al commissario all'emergenza e al dissesto idrogeologico che farà una relazione sui piani strutturali quindi avremo anche contezza di quello che è stato fatto e di quello che c'è sul tavolo a livello imminente per questo problema avremo subito dopo l'intervento dell'ingegnere Siviglia segretario dell'autorità di Bagino che ci parlerà della programmazione quindi anche da qui anche a quello che sarà il futuro per la messa in sicurezza e dopo farò un intervento io con delle proposte sulla prevenzione e successivamente avremo l'intervento del nuovo eletto al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi il Dottore Violo che farà delle proposte anche lui normative le conclusioni saranno affidate al capogruppo al PD alla Regione Calabria all'On. Romeo e avremo come ospite conclusione finale l'assessore all'ambiente Antonella Rizzo